Ha fruttato veramente poco il colpo messo a segno alla filiale di Marlia della Cassa di Risparmio di Lucca in via Paolinelli. Secondo le indiscrezioni, infatti, i ladri sono fuggiti con solo una sessantina di euro trovati in un cassetto. Una banda poco organizzata, quindi, che però è riuscita lo stesso a trovare il modo di penetrare all'interno dell'istituto bancario. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2.30. I ladri sono entrati forzando una finestra sul retro, priva del sistema di allarme. In realtà poi sembra che sia entrata in azione l'allerta volumetrica, ma dopo alcune verifiche si è pensato ad un falso allarme. Nel frattempo i malviventi si erano impossessati di 60 euro in monete da 1 euro, trovate dentro un cassetto, letteralmente gli spiccioli della cassa. Poi sono fuggiti. Di quanto accaduto ci si è resi conto solo la mattina seguente. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ponte Amoriano, che stanno conducendo gli accertamenti. Saranno vagliate le immagini delle telecamere di sicurezza per capire se hanno ripreso qualcosa di utile per le indagini.